Musica E' stata portata fuori dalla grotta dagli operatori del soccorso alpino la speleologa di 31 anni Ottavia Piana, che domenica pomeriggio si era infortunata a 150 metri di profondità in una grotta a Fonteno, in provincia di Bergamo. La donna, in buone condizioni fisiche e generali, anche se ferita a una gamba, è stata subito trasportata in ospedale in elicottero. La speleologa è socia del gruppo Speleocai di Lovere e istruttrice durante le esplorazioni in grotta sottoterra. Era già entrata diverse volte nell'abisso Buenofonteno, il punto dove l'altro ieri si trovava con altri speleologi, e a circa due ore e mezzo dall'ingresso della grotta, anche se il trasporto in Varella ha complicato la situazione e ha allungato notevolmente i tempi. Nel sottosuolo ci sono grandi fonti idriche utilizzabili e l'acqua è presente in maniera consistente. Le piogge di ieri sera e di questa mattina hanno ostacolato ulteriormente il lavoro dei soccorritori. Un impianto accusatorio pesantissimo, omicidio volontario aggravato dall'occultamento e vilipendio del cadavere, rischia fino a vent'anni di carcere il diciassettenne che il 28 giugno scorso ha ucciso accoltellandola per almeno sei volte, misce il causo in un appartamento nel quartiere Prima Valle a Roma, dove si è svolta oggi una fiaccolata in memoria della ragazza. Le aggravanti sono legate al tentativo di sbarazzarsi del cadavere, infilandolo in una sacca nera dell'immondizia e lasciandolo a poca distanza da un cassonetto. Il minore non avrebbe ripulito la scena del crimine. Sangue era ovunque, a cominciare dall'androne del palazzo. Sui tempi in cui si è consumato l'omicidio, risposte arriveranno dall'analisi del suo cellulare e di quello della vittima. Dagli esami tecnici si capirà se il diciassettenne abbia avuto contatti con terzi prima e dopo aver ucciso la ragazza. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Santiago, prima tappa della visita ufficiale in Cile e da giovedì in Paraguay. Accompagnato dalla figlia Laura, il presidente è stato accolto all'aeroporto di Santiago dal ministro degli esteri Alberto Van Claveren e dal capo del cerimoniale diplomatico Manai Pacarati e dall'ambasciatrice italiana Valeria Biagiotti. Tra gli appuntamenti della giornata, gli incontri con una rappresentanza della comunità italiana in Cile e con il presidente cileno Gabriel Boric. Questo del Pantheon è un impegno che io avevo assunto poco dopo il mio arrivo al ministero. In otto mesi siamo riusciti a realizzare prima l'impianto amministrativo e poi l'impianto anche tecnico per arrivare a questo punto. Lo dice il ministro della cultura Gennaro San Giuliano al suo arrivo al Pantheon di Roma, dove ha preso il via il pagamento del biglietto. Una novità accolta senza problemi dai turisti, disposti dalla prima mattina in file ordinate. Anche il ministro ha il suo biglietto mostrato sullo smartphone. Anche se sono residenti a Roma da 35 anni ho voluto pagarlo. Il Pantheon è il sito museale più visitato in Italia, con 9 milioni di visitatori, aggiunge. Il biglietto è abbastanza modico, appena 5 euro. I cittadini romani sono esenti e vale tutto il sistema di modalità gratuite già garantite per una serie di categorie. Ad esempio i giovani fino a 18 anni non pagano nulla, fino a 25 pagano 2 euro, che ora sono 3 euro perché c'è il contributo dell'Emilia. Le persone disabili e i loro accompagnatori non pagano, come non pagano i docenti, quando portano qui le scolaresche. Ci sono anche qui le domeniche gratuite, più i tre giorni che io ho aggiunto, il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Gli incassi vengono ripartiti tra il Ministero della Cultura, che però vincola queste risorse alla tenuta, alla curatela e alla rigenerazione di questo sito, e un altro 30% va alla curia, che si è impegnata a destinare una parte ai poveri di Roma. E' stata depositata alla Camera la proposta di legge unitaria sul salario minimo, da Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Azione, PD, Europa Verde e Più Europa. La proposta di legge, intitolata Disposizioni per l'istituzione del salario minimo, è firmata da tutti i leader dei partiti di opposizione, che sono anche deputati e dai rispettivi capigruppo a Montecitorio. Si compone di otto articoli. Il primo articolo prevede che, in attuazione dell'articolo 36, primo comma della Costituzione, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui ha l'articolo 2094 del Codice Civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e la qualità del lavoro prestato. La campagna di protesta contro il riconoscimento facciale durante i concerti è iniziata a seguito della conferma che il Madison Square Garden, l'impianto sportivo di Manhattan, stava utilizzando il riconoscimento del volto per identificare gli avvocati presenti agli eventi, i quali, se associati ad una causa in corso contro la società Madison Square Garden Entertainment, venivano accompagnati all'uscita. Questa innovazione digitale è uno strumento che, soprattutto negli Stati Uniti, si sta diffondendo non solo come sistema di controllo delle folle, ma anche per passare i tornelli in modalità paperless, associando il proprio volto all'acquisto del biglietto, o anche per comprare merchandising, cibo e bevande, con un adebito diretto sul proprio conto, evitando di portare con sé soldi o carte di pagamento. Senza dubbio è un passo enorme fatto dalla tecnologia, che può rivelarsi utile e maltempo stesso pericoloso per la privacy di chiunque. La protesta in corso invita gli artisti a boicottare i concerti ed è nata dal gruppo di difesa dei diritti digitali Fight for the Future, il quale chiede il divieto della tecnologia di scansione del volto in tutti gli eventi dal vivo. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS